Vivi al cinema le emozioni del concerto evento dell'anno e l'inedito backstage dello show più atteso dai Vilovers nell'imperdibile Violetta Backstage Pass! Per la prima volta dal palco al grande schermo Leon, la straordinaria Violetta e tutto il cast della tua serie preferita ti aspettano con musica! Coinvolgenti karaoke E le emozioni del tour italiano In più, un esclusivo backstage mai visto prima per vivere da vicino la vita del cast durante il tour Un'esperienza unica per veri Vilovers Violetta Backstage Pass Dal 30 aprile al cinema